Buonasera, di nuovo insieme con l'ultimo appuntamento del 2014 con Bocce Forum, dopo i bagordi natalizi, salutiamo Sergio Ardenghi, buonasera Sergio e Carluccio Martiglioni, buonasera Carluccio. Visto che ci stiamo avvicinando alla chiusura di quest'anno, facciamo un bilancio di questo 2014, faccio fare a entrambi, direi a Sergio dal punto di vista organizzativo e a Carluccio dal punto di vista sportivo. Dal punto di vista sportivo terminiamo l'anno col botto con la gara del circuito FIB organizzata dall'Alto Verbano che si è disputata domenica l'altra e con un successo strepitoso di qualità, di partecipazione un po' meno, qualcosa di più ci poteva essere come numero ma purtroppo il calendario nazionale penalizza moltissimo questo tipo di manifestazioni perché mentre un tempo si faceva una gara FIB su tutto il territorio ed erano obbligati quelli di A1 a partecipare a questi torneo, adesso ne fanno anche due, qualche volta fanno anche tre, pertanto diventa complicato. Quelli di Roma chiaramente non si spostano a Varese per giocare una gara se ce l'hanno sul territorio molto più vicino a loro. E questo però è la federazione che ha detta di molti pecca di qualità organizzativa, era più importante fare una gara alla domenica unica ma con un quadro maggiore che diventava più spettacolare, però le richieste sono tante. Tornando al risultato è stato un risultato eclatante perché hanno vinto ancora quelli che hanno vinto l'anno scorso che sono due giovani veramente di qualità e sono dell'Ancono 2000 e l'anno scorso avevano poi fatto una finale con un'altra formazione dell'Ancono 2000. Che poteva esserci anche quest'anno. Che poteva esserci anche quest'anno che hanno perso in semifinale. Quasi una replica. Sì, è stata una replica. Però le qualità saltano fuori. Questi sono stati campioni italiani anche come formazione di società l'anno scorso. È stata la prima in assoluto. Vuol dire che qualcosa c'è in queste. E quando ci sono i giovani, i giovani sono quelli che fanno proprio la differenza. In questa società. Chiudiamo l'anno con una bella notizia perché state parlando di giovani, quindi più volte abbiamo parlato qui in trasmissione, se vincono i giovani vuol dire che non hanno 18 anni, ne hanno molto più, però diciamo che sono abbastanza giovani. Rispetto alla media sicuramente. Però secondo è arrivato un giovane di 22 anni, Luca Viscusi, che è sempre una... Sicuramente... Ma è che si sta affermando sempre di più perché è un nome che è... E' un nome che è... E' ormai a Giro Nazionale. Già nel Giro della Nazionale, è un grandissimo giocatore, ha dei numeri e dei colpi che sono eccezionali. Giocando poi con un atleta esperto come Paolo Luraghi riesce a dare veramente molto e lo si vede. Pertanto il pubblico che ha assistito sia nelle batterie del mattino e nei sui bocciodromi vari e quelli che poi hanno potuto partecipare anche alle finali o assistere alle finali hanno sicuramente goduto di questo spettacolo. E' un ringraziamento all'Alto Verbano per un'organizzazione sicuramente molto costosa, non gratificata dalla partecipazione di moltissimi giocatori, perché sette gironi su sono stati pochi, però la qualità veramente è stata eccezionale, c'erano veramente i migliori in assoluto. E meno male, chiusura col botto come dici tu e invece dal punto di vista organizzativo Sergio, c'è stato il botto o no? No, quest'anno, con il 2014 ci si è chiuso evidentemente perché Garena abbiamo fatti a Iosa. Molto ovviamente l'anno prossimo ripeteremo il numero una più, una meno, niente di più, però ricordiamo che quest'anno abbiamo avuto anche tre campioni italiani, due donne e una terra di maschi, a cui diamo il nostro ringraziamento perché portano sempre in alto il nostro nome come comitato, la terra dell'Alto Verbano e due giocatrici della Fratelli d'Italia e della Renesi, nel settore femminile. Insomma, sono risultati importanti, perché è vero che si lavora quotidianamente come fate voi, ma poi la gratificazione arriva poi sul campo, come sempre, quando arrivano i risultati c'è la soddisfazione. Tra l'altro, noi l'abbiamo ricordato tante volte in trasmissione, magari velocemente, è già stato calendarizzato, come dici tu, la prossima stagione. Abbiamo già messo l'esposizione della società i primi 3-4 mesi dell'anno, perché purtroppo già al 5 di gennaio noi cominciamo. Purtroppo per fortuna. Finiamo al 31 dicembre e cominciamo al primo, al primo, perché cominciamo subito con San Casane, con Crenna, due gare in contemporanea. Una stagione molto, molto intensa, si perspetta. Esatto. Siete soddisfatti comunque del 2014? Cosa vorreste migliorare in futuro? Quali sono gli obiettivi? Immagino sempre grandissimo lavoro, naturalmente Sergio come presidente, ma Carluccio che vivi a stretto contatto ormai con lui. Sì, scusate, volevo appunto dire qualcosa che riguarda, che non può dirlo il presidente Ardenghi, perché lui è un membro del comitato, è un dirigente della federazione, perciò io che sono un po' al di fuori di quello che è la federazione, io non sono nulla sotto questo aspetto. Ma non parli di sì, mi piace perché c'è una vena polemica. No, la mia è proprio una vena polemica. Noi, diciamo, siamo tutti abbastanza insoddisfatti da quello che sono le decisioni che partono da Roma. Siamo tutti, io lo dico tutti perché li sento da parte di tutti. Ti fai portavoce. Mi faccio portavoce di tutti. Sì, infatti mi ha anticipato. Perché non si possono dare quelle disposizioni. La stessa gara nazionale FIB, costruita come sono costruite, con la storia che non si può, si deve giocare con un regolamento ben preciso, ben particolare, taglia fuori. Ecco, ti faccio un esempio. Nella gara di domenica scorsa, quando sono scritti di Varese, a parte quelli di A1, che sono dell'alto verbano e dell'alto verbano perché giocavano per forza di cose e qualche coppia di malnate, di Varese non ha giocato nessuno, pur essendoci tantissimi giocatori di A1, perché andare a giocare contro gente che sono abituati a fare un tipo di competizione diversa dal solito, dal fatto del tirare al volo per forza fino a un certo punto, di colpire assolutamente quello che è dichiarato e se non si muove, pur essendo bersaglio, non va bene, queste regole non vanno più bene, non si possono fare perché non possono essere messe a disposizione di tutti perché noi non avremmo l'abilità come giocatori di categoria interiore, sono penalizzanti e qui la federazione, io l'ho detto anche a qualche dirigente regionale, però se non si fa qualcosa come Lombardia, che è il numero maggiore di iscritti in tutta Italia e in Lombardia, se la Lombardia non riesce ad imporsi nei confronti di Roma, non andremo avanti, questa è la cosa peggiore, perché non è una cosa che può continuare. Bene, la domanda spontanea Sergio, c'è dialogo con Roma? Non è che non ascoltano per niente, perché adesso tra un po' aspettiamo il nostro Presidente Gioane che ci convochi, perché per le ultime novità riguardanti la quota di iscrizione che noi abbiamo deliberatamente negato il nostro assenso, ma Roma ha detto che bisogna fare così e basta, in ordine viene dall'alto. C'è una dittatura a Roma, è giusto anche per i propositi, per il nuovo anno. Sono in posizione che vanno bene da qualche parte, ma da noi, nel nostro mondo no. Tutti i Presidenti della Lombardia, specialmente quelli da Lombardia, sono convinto anche quelli del Veneto e dell'Emilia Romagna, sono incavolati su questo fatto, perché non è possibile che si vada a creare ancora oneri ai giocatori, alle società, solo per ingrassare chi, quelli che poi useranno per fare le loro trasferte a Roma. Non è così che si può fare. Per il nuovo anno che arriva e ci sono dei propositi, vi augurate naturalmente che cambi qualcosa per quanto riguarda questo rapporto per il 2015. Prima stavamo parlando di campioni che tengono alto il nome della provincia. Continuiamo a dirlo, Altoverbano, che avete già citato, non è andata molto bene l'ultima giornata del 2014, cosa può fare secondo voi invece nel proseguo della stagione? Tergio. Ma diciamo che purtroppo sono incontri talmente di alto livello che quando tutto sembra facile viene fuori il difficile. Cioè speriamo che adesso con il nuovo anno i nostri portacolori realizzano qualcosa in più, perché fino ad adesso siamo piazzati bene, non è che siamo piazzati male, per l'amore del cielo. Per l'Olimpita che non ti aveva incontro qualcosa in più si poteva uscire. Sì, come diceva... Che i Romani, che la squadra di Bovile sul campo sia superiore, nessuno ha niente da dire. Come diceva Turuani un paio di settimane fa c'è talmente tanto equilibrio, il livello è talmente alto che il risultato non è scontato mai. Guarda a caso, i nostri avversari di sabato, sabato scorso, due componenti della formazione hanno fatto la gara nazionale di Ostia e hanno fatto il primo e secondo. Non è che sono gli ultimi arrivati. Sì, sì, è una dimostrazione che... Nanni e Facciolo hanno fatto il primo e il secondo. Un livello altissimo. Non ci sono... Noi dobbiamo batterci per mantenersi in classifica, una classifica decorosa. Il vincere assolutamente per quest'anno non è possibile. L'anno prossimo si potrà vedere. Però quest'anno è proprio... Anche perché siamo novizi, insomma, dobbiamo pensare che si va a giocare contro dei giocatori di qualità eccelsa e non è facile. Ecco, io volevo però anche fare un altro annuncio. L'abbiamo già fatto le altre volte che abbiamo parlato. su quello che riguarda la partecipazione a questa trasmissione. È una trasmissione che... Mi ha anticipato, volevo chiudere così, vedi, ormai sei il co-conduttore. Eh, beh, sì. Adesso che siamo alla fine e dobbiamo iniziare un nuovo anno, vale la pena appunto di puntualizzare queste cose. Ecco, il successo è ormai conclamato e già ormai nel... Parlano i dati. Nell'ordine delle cose, ormai ci siamo e è posto. Però se noi allarghiamo ancora di più l'utenza e i comitati che creano utenza, sarebbe l'ideale perché quello... Allora, noi abbiamo già sicuramente l'adesione dell'Alto Milanese e di Monza come comitati. Abbiamo ancora già... Anche l'ECCO, che è una cosa che è importante. Comorce. Comorce. Busto, Legnano e Varese sono già dentro. Milano ci daranno la risposta sicuramente entro poco tempo perché la vicepresidente del comitato Lombardia ha dato il suo apporto appunto per avere Milano. Poi in seguito vedremo un momentino con Pavia, Cremona e Mantua, che sono anche questi. Sono i comitati che... Ecco, il raggiungimento di questi spazi presuppone però degli spazi maggiori per noi. Certo, certo. Questo 12 minuti... È un appello che stai facendo a noi, quindi questo. Sì, questo lo sto facendo. È un invito. È un invito, però diciamo che noi... Sicuramente ne parleremo, sapete che noi siamo ben aperti a nuove iniziative, soprattutto Bocceforum, che è partito Bocceforum Varese, diciamo, sta diventando Bocceforum Lombardia. Ecco, questa è la cosa che mi diceva. Fa onore a voi che riuscite a organizzare sempre, a portare tanti offri illustri anche qui nei nostri studi. Quindi ci lasciamo con questo 2014, con questo auspicio e come avete capito, e mi rivolgo naturalmente ai telespettatori appassionati di Bocce e non che continuano a seguirci con tanta carne al fuoco per il 2015. Grazie, buon anno. Aspetta, scusa un attimo. Ecco la conclusione del Presidente, mi sembra. Purtroppo c'è una nota negativa e purtroppo dobbiamo dare un triste annuncio. Cioè? È deceduto il Bocceforum di Castellanza dal primo di gennaio 2015. Quindi chiudiamo con una nota negativa. Ecco, diciamo già agli aspettatori che la prossima intervista sarà il Presidente della Castellanzese, Silvano Farioli. Non me l'hai detto prima perché sapevi che... Abbiamo avuto il settimana scorso un incontro con il Sindaco e con la Giunta e non c'è stato niente da fare. Gli aspettiamo volentieri sperando di essere utili magari a un'eventuale rinascita. No, diciamo già che è già stato destinato ad altro uso. Allora ancora di più speriamo in un buon anno per chi ha perso quello che era poi una seconda casa. Esatto, bravo. Un auguro maggiore anche a loro e buon anno anche a voi naturalmente. Grazie mille. Con il sorriso anche per la vociofia castellanzese. Grazie ancora Carluccio e grazie Sergio. Buon anno a tutti. E buon anno a voi tutti. Bocceforum torna, aiutatemi. Venerdì 15 gennaio. Quindi vi aspettiamo sempre qui su Rete55 alle 21 e 20. Il venerdì su Rete55 canale 16. Il sabato alle 20 su Rete55 sport canale 86. Arrivederci, buona serata. Buona continuazione con la nostra programmazione. Grazie a tutti.